Potrebbe sbloccarsi la situazione degli imprenditori nell'area PIP di Pagani. Dopo la denuncia dei proprietari delle aziende che dovrebbero a breve aprire i battenti, un'intesa sarebbe stata raggiunta tra l'ente comune e l'Enel per la realizzazione della cabina elettrica che dovrà fornire energia utile anche per poter installare impianti di videosorveglianza dopo i numerosi atti vandalici perpetrati ai danni degli opifici industriali. Il sindaco ha assunto il suo impegno. Avevo detto agli imprenditori che avevo preso già contatto con l'Enel perché l'Enel deve costruire due cabine, una in questa zona, un'altra ci deve spostare una cabina su via Lamione, anche lì una zona degradata al massimo come strada e ho parlato nemmeno a farlo apposto stamattina con l'ingegnere Califane dell'Enel che aspetta da noi solo l'atto finale per la presa in possessa dell'area dove noi dobbiamo andare a costituire la cabina. Quindi la cabina verrà fatta dall'Enel e noi daremo disponibilità all'Enel di fare questi lavori nel giro come comune e partiremo subito, quindi gli daremo subito l'autorizzazione a fare i lavori, poi è l'Enel che dovrà provvedere a reperire, quindi a comprare le cabine e installarle in solo. Per quanto riguarda l'attività comunale verrà fatta già da qui a una settimana, poi è l'Enel che io già ho sollicitato che mi ha dato la disponibilità di accelerare subito l'intervento.